Salve lettori compulsivi e non, io sono Lady Aileen e vi do il benvenuto sul mio canale. Buon anno a tutti! Per chi se lo stesse ancora chiedendo, il mio computer è ancora in riparazione, quindi la programmazione sarà ancora un po' ballerina. Abbiate pazienza! Sto lavorando su un pc in prestito e un po' vecchiotto, quindi il montaggio dei video sarà diverso dai soliti. Finché non riavrò il mio pc, incrociamo le dita e speriamo presto, andrò avanti con i Beati Paoli di Luigi Natoli. Ma come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e cliccare mi piace ai video. E se vi va, di utilizzare il mio link di affiliazione Amazon che trovate nell'info box per i vostri acquisti. A voi non costa niente, a me arriverà una piccola percentuale che mi aiuterà a migliorare la qualità dei video e contenuti del canale. Grazie! Capitolo 17 Il nuovo venuto era un razionale. Si chiamava Don Girolamo Ammirata. Era alto, con un volto asciutto e bruno sotto l'ampia parrucca a riccioli, le mascelle ferine, gli occhi neri e vivi. Ma nell'atteggiamento, il gesto, nella voce, aveva un non so che di umile o di remissivo, che faceva dire deve essere un brav'uomo. Sebbene secondo l'uso cingesse spada, dal panno e dalla semplicità del vestito si riconosceva la modesta sua condizione che si conformava all'espressione del volto. Il giovanotto, invece, offriva un singolare contrasto. Sul viso aveva ancora qualcosa di infantile. Nello sviluppo del corpo sembrava piuttosto un giovane ventenne. Le fattezze, esaminate singolarmente, avevano una delicatezza e una dolcezza femminia, ma nel loro insieme assumevano un'espressione di alterezza, quasi fiera e disdegnosa. E contrastava l'umiltà delle vesti con un portamento svelto ed elegante. Perbacco! Esclamò il pittore guardandolo con compiacimento. Ecco un modello magnifico. Che ne dite, Don Giacomo? Giacomo Serpotta sbirciò il giovanotto. Le cui guance si erano imporporate, un po' per piacere, un po' per vergogna. Sì, avete ragione, disse. Posò la chitarra, si alzò, distese le braccia, fece schioccare le dita, indi raccolto il cappello, aggiunse. Beh, è ora d'andarmene. E se ne andò, infatti, salutando Pellegra con un buffetto e i nuovi arrivati con un cenno del capo. Don Girolamo, ammirata, soddisfatto dell'impressione prodotta dal nipote, si era seduto sul canapè, intanto che il buon Giovanni, disceso dagli scalini e deposti i pennelli, diceva. Via, facciamo questa posa? Tolse da un angolo un elmo e una corazza e porgendoli al giovanotto. Andiamo, aggiunse. Mettiti questa roba. Il giovanotto sorrise. Aiutato da Don Girolamo indossò, sopra il vestito, la corazza e si coperse il capo con l'elmo. Il pittore gli porse una spada da combattimento dalla guardia larga, che egli cinse, poi lo condusse sopra un predellino e lo guardò ammirato. Perbacco, perbacco, ecco Rinaldo, disse l'ammirata. Il buon Giovanni batte le mani. Bravo, ecco un'idea. Sapete che mi avete dato un'idea, Don Girolamo? Rinaldo, sì, Rinaldo l'eroe del tasso. Ecco un'idea, Rinaldo e Armida, Rinaldo e Armida, si voltò. guardò Pellegra che in quel momento, tralasciati i vasetti e le tinte, guardava con ammirazione il bel giovane e le gridò. Vieni qua tu, vieni qua su. La prese per mano, la condusse sopra il predellino, vi spinse uno sgapello. Vi fece sedere la figliuola con una fretta, una febbre, un entusiasmo, come se quell'idea balenatagli nella fantasia all'evocazione di un nome l'avesse ossessionato. Don Girolamo sorrideva. Pellegra un po' riluttante arrossiva fino al bianco degli occhi. Il giovanotto non sapeva che fare, ma si sentiva impacciato accanto a quella fanciulla che aveva gli occhi smarriti di una colomba sorpresa. Il pittore atteggiò la figlia in una posa che doveva rispondere a un concetto di seduzione e di tenerezza. Poi fece sdraiare sulla predella il giovane, cercando di fargli assumere l'atteggiamento di un innamorato, col capo quasi sulle ginocchia della fanciulla, le mani nelle mani di lei. A selvatichezza o timidità, egli non era così docile. Vincenzo Bongiovanni se ne disperava. Ma che diamine! gridava. Sei un'educanda! Non hai fatto mai all'amore! Fingiti innamorato per barco! Egli ha quindici anni appena! Esclamò Don Girolamo ridendo. Come volete che sappia coteste cose! Quindici anni? Dite davvero? E ne avrei dato diciotto almeno! Perbacco! Ma penone! Da un certo punto la cosa mi soddisfa! Penone! A ogni modo ciò non importa! Ma non bisogna essere timido! Perbacco! Un uomo con tanto di spade e di corazza! Di un po', hai paura! Il giovane lo fulminò coi begli occhi castani. Dico, hai paura di mia figlia! Riprese Don Vincenzo motteggiando. Non è mica brutta! I due giovanotti si guardarono arrossendo fin nei capelli e abbassarono gli occhi confusi. Don Girolamo intervenne rimproverando in tono di scherzo il pittore. Ma che diamine dite? Li mettete in soggezione così! È vero, avete ragione! Dunque, ragazzi, siamo intesi? Voi siete Rinaldo e Armida! Pellegra conosce Tasso! Lo conosci tu? Hai tu letto la Gerusalemme? Bene! Dunque, Armida ha incantato Rinaldo, che è cotto e stracotto di lei! Immaginate di trovarvi nel giardino fiorito sotto un cespuglio di rose! Non vi muovete, così! Li aveva posti in atteggiamento appassionato, costringendoli a guardarsi. Ma Pellegra teneva i suoi occhi bassi, quasi socchiusi, e il giovanotto sentiva inumidirsi i suoi. Però guardava con curiosità e con interesse la fanciulla che la fatuità di Don Vincenzo Bongiovanni, il suo cervello cominciava a dare segni di quel vaneggiamento che più tardi doveva oscurarlo, gli poneva tanto vicino e la trovava di suo genio. Anche Pellegra, furtivamente, lanciava qualche occhiata a quel bel giovane suo coetaneo, che sotto quelle armature pareva uno di quei cavalieri incisi in vecchie stampe, e trovava piacevole il vederselo dinanzi ai ginocchi come un innamorato. Come un innamorato! Ecco un'idea che forse non l'era passata mai per la testa, e che ora limpiva il cuore di una vaga confusione, di piacere e sgomento insieme. Forse per la prima volta, destato da quella finzione, l'istinto sessuale si manifestava in lei e la faceva arrossire e tremare dinanzi a un uomo. Don Vincenzo Bongiovanni, però, non andava più oltre di quello che vedeva la superficie. La commozione e lo smarrimento della figlia. Aggiungendo un'espressione al modello, gli accrescevano la soddisfazione. Egli disegnava febbrilmente per fissare la sua idea, mentre Don Girolamo, ammirata, lo seguiva curiosamente. Ma Benone, Benone, perbacco! Esclamava di quando in quando Don Vincenzo. Non si sapeva bene se per approvare se o il gruppo, o tutti e due. Poi depose il cartone e la matita. Si alzò. Guardando da lontano, aggiunse. «Va Benone, ripiglieremo la seduta quando l'avrò trasportato sulla tela. Un quadretto così, non molto grande, figure terzine. Vedrete!» Si riposò un momento, stirando le braccia. I due giovani si erano lasciati con quel senso di sollievo di chi si vede liberato da un grande imbarazzo. Il piacere che essi provavano nel tenersi per mano, infatti, li imbarazzava. Per oggi la lettura finisce qui. Spero che il libro che ho scelto vi stia piacendo. Se avete suggerimenti o richieste, lasciatemi pure un commento. E ricordate, per sognare non bisogna chiudere gli occhi, bisogna leggere. Michel Foucault. Alla prossima, ciao!